benvenuti ad un nuovo appuntamento di toscana cine news il format che continua a raccontarvi gli aggiornamenti del mondo del cinema della toscana e in apertura una bella notizia sta per essere realizzato a firenze il nuovo film del regista fiorentino federico micali l'anno del terzo scudetto ebbene appunto il regista autore fiorentino che ha già realizzato l'universale l'ultima zingarata looking for negroni e poi mi piace spider man allora ricorderete questo cortometraggio contro le discriminazioni di genere ebbene si domanda in questo nuovo film che cosa sarebbe successo esattamente 40 anni fa se il rigore della fiorentina non fosse stato annullato sentiamo che cosa ci ha detto a distanza di 40 anni mi è venuta voglia di fare un'operazione un po alla marvel cioè di multiverso di immaginare che questo scudetto la fiorentina effettivamente l'avesse vinto e quindi raccontare quell'annata dandogli un finale diverso e vorrei dire più giusto l'amore per la fiorentina c'è sicuramente e c'è un gusto del calcio inteso però in senso alla Soriano questa magia del calcio e queste storie che si nascondono sempre dietro questo sport che ha sì un'apparenza estremamente aggressiva capitalistica però nasconde sempre delle delle storie molto belle perché intreccia storie di città storie di popolo il calcio e romanzo popolare è un qualcosa effettivamente che riesce a fare da allegante tra alto basso quindi secondo me a parte tutte le considerazioni giustissime che si possono fare è sicuramente un qualche cosa che unisce le generazioni che racconta racconta tanto oltre all'aspetto estetico il quale è altrettanto importante come diceva Pasolini io avevo già fatto un lavoro sul calcio nel 2007 che è 99 Maranto dove raccontavo la storia di Cristiano Lucarelli bomber comunista del Livorno ma in realtà lo utilizzavo come modo per raccontare la Livorno proletaria e la curva delle ball che è una curva assolutamente particolare fantastica che andava a seguire la squadra e portava in curva delle tematiche sociali importanti. Sai già dove sarà girato quando qualche dettaglio in più? Beh stiamo organizzandolo abbiamo voluto annunciare il giorno del quarantesimo anniversario adesso stiamo organizzando un po' la produzione che è la malandrino film di Andrea Mugnaini insieme a Pablo Benedetti della 011 quindi si ricrea un po' quello che era il gruppo di Firenze sotto vetro con cui abbiamo lavorato molto bene che quindi adesso mi spalleggiano in produzione sarà girato immagino entro l'estate perché vorremmo essere pronti poi nel periodo dei mondiali. E dopo il film di Federico Micali vi segnalo un altro film che riguarda la nostra regione anche sia una produzione danese. È infatti su Netflix in questi giorni il film Toscana di Mehdi Avats. Di cosa si tratta? È un po' il classico film che va a lavorare ad indagare sugli stereotipi della Toscana quindi non manca proprio nulla, il bel paesaggio, i cipressi, il buon cibo, la vespa, le belle ragazze, insomma veramente un po' quelli che sono gli stereotipi all'estero dell'Italia. Però devo dire che il film si rivela anche avere un suo spessore nell'andare ad indagare i sentimenti dei protagonisti. Nel film un cuoco danese tutto preso dal business del suo ristorante stellato ha ereditato un casale in Toscana. Ebbene questo personaggio vorrebbe vendere frettolosamente per tornare in Danimarca ma proprio in Toscana conoscerà una persona, una ragazza che riuscirà a fargli riconsiderare i suoi sentimenti ma anche i suoi valori. E veniamo adesso alle novità dal cinema La Compagnia di Firenze. Si tiene dal 26 maggio al 16 giugno la rassegna mostruoso femminile. Di cosa si tratta? Sono quattro appuntamenti con quattro film, con film di genere oro realizzato da registi internazionali. Si comincia il 26 maggio col film Row realizzato da Julien DuCornot, la regista che come ricorderete ha vinto la palma d'oro a canna per il film Titan. E sempre al cinema La Compagnia di Firenze vi segnalo che sono ancora aperte le iscrizioni per le masterclass di Showrunner Lab. Lo showrunner è un mestiere del tutto nuovo. È una figura che coordina le produzioni delle serie TV ed è veramente un mestiere che offre molte opportunità per i giovani che si vogliono affacciare proprio ai mestieri del cinema e dell'audiovisivo. Dopo la prima masterclass del 22 maggio con Vaughn Wilmot, la prossima masterclass sarà con General Spiegel, un produttore esecutivo del New Magazine americano Extra ed è specializzato su serie TV che vanno ad indagare sul genere crime. Quindi serie realizzate anche su fatti di cronaca realmente accadute come quello ricorderete di O.J. Simpson. Ebbene queste masterclass consentono veramente ai giovani o anche meno giovani di entrare in contatto con i professionisti del cinema e dell'audiovisivo e quindi un'opportunità da non perdere. Le iscrizioni si possono svolgere direttamente alla Cassa del Cinema La Compagnia. E restiamo al Cinema La Compagnia per parlare di un altro progetto. Infatti il programma regionale di educazione al linguaggio dell'immagine, Lanterne Magiche, un programma regionale che si svolge in tantissime scuole della Toscana, un progetto di fondazione Sistema Toscana, propone il 31 maggio, in chiusura dell'anno scolastico, un evento rivolto alle primarie e alle secondarie di primo grado, quelle che noi chiamiamo elementari e medie per capirsi di che cosa si tratta. Verranno mostrate ai ragazzi delle puntate della serie TV Io alla tua età, una serie andata in onda dal 23 marzo su Rai Gulp e oggi ancora visibile su Rai Play. La visione sul grande schermo di queste puntate della serie sarà l'occasione poi al termine della visione di svolgere un laboratorio sull'animazione. Che cos'è uno storyboard? Che cos'è una grafica per l'animazione? Che cos'è il rigging? Quindi questi bambini e ragazzini avranno la possibilità di svolgere un laboratorio. Questa serie ha il supporto e il sostegno di Toscana Film Commission nell'ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema. E veniamo adesso agli eventi in Mediateca. Come sapete in questi giorni stanno andando avanti le lezioni di cinema coreano a cura della critica Caterina Liverani in collaborazione con il Florence Corea Film Fest. Questo bellissimo festival che quest'anno ha compiuto 20 anni ha fatto una bellissima edizione che si è conclusa nello scorso 15 aprile e bene adesso sta svolgendo in Mediateca Toscana in via San Gallo 25 a Firenze gratuitamente quindi accessibile a tutte queste belle lezioni. Il prossimo appuntamento il lunedì pomeriggio in Mediateca è con il cinema di Bong Joon-ho. Si affronterà poi il tema dei drama sudcoreani molto amati dal pubblico come la famosissima Squid Game e poi invece gli appuntamenti in Mediateca che vanno sotto il titolo della valigia dei sogni prevederanno un incontro col giornalista e critico Fabrizio Borghini che ha appena realizzato un suo libro sulla commedia cinematografica toscana. Sentiamo che cosa ci ha detto. Per la prima volta sono riuscita a teorizzare l'esistenza della commedia cinematografica toscana andando a scoprirne le radici che sono facilmente intuibili nel film Amici miei del 75 perché prima d'allora un film parlato in fiorentino, in toscano era impensabile perché nel mondo del cinema c'era questa credenza che il toscano non facesse ridere e quindi i comici erano tutti napoletani, romani, qualcuno milanese ma i comici fiorentini anche se c'erano stati sono sempre utilizzati come Odoardo Spadaro nel cinema come macchiette, come caratteristiche. Monicelli riuscì a sdoganare forse involontariamente perché il film Pietro Germi l'aveva ambientato a Bologna, lui lo volle portare a Firenze e forse da questa casualità è nato il successo del film e che poi ha spalancato grazie poi al successivo bis clamoroso di Berlinguer ti voglio bene che ovviamente non ha fatto inizialmente gli incassi d'amici miei perché è stato censurato, è stato boicottato però l'esplosione di questi due grandi Benigni e Monicelli hanno consentito poi di esordire Gian Cattivi, Gian Cattivi hanno visto l'esplosione di Francesco Nuti, i grandi incassi di Nuti hanno spalancato la porta poi al ritorno di Alessandro Benvenuti al debutto di Giovanni Veronesi e poi un'altra esplosione quella di Leonardo Pieraccioni che con gli straordinari incassi dei suoi film ha consentito che altri giovani autori toscani potessero debuttare e fra questi debutti c'è stato anche Bagnomaria di Panariello che ha incassato bene. Direi di dare la rivederci ai telespedatori con la commedia cinematografica toscana per il prossimo 13 giugno alle 17 in Mediateca in via San Gallo ovviamente a Firenze ci saranno alcuni degli attori e dei registi dei quali si parla nel film vi ricordo il libro edito da Ammasso delle Fate costa solo 10 euro quindi una cifra accessibilissima per tutti e prefazione di Masolino D'Amico, introduzione del governatore della Toscana Eugenio Gianni. E in chiusura di Toscana Cine News una sinalazione di un festival che si tiene in Toscana. Sto parlando della mostra del cinema di Montecatini Italia Film Fedic. Questa manifestazione infatti è proprio organizzata dalla Federazione Italiana Cine Club Fedic, una federazione che ha una storia lunghissima. Questo festival arriva alla 72esima edizione, dopo uno stop di un paio di anni finalmente si ritorna ad organizzarlo in presenza. Si tiene dal 22 al 26 giugno a Montecatini Terme, sarà quindi un'occasione per trascorrere la città termale dei giorni molto gradevoli all'insegna del buon cinema. Ci sarà un omaggio per Paolo Pasolini nel centenario della nascita e saranno ospiti due personaggi importanti, l'attore Ivano Marescotti e regista Franco Piavoli che riceveranno due premi alla carriera. E con questo è davvero tutto, arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.